Paolo Montanari, autore di Esplorando Dante e la Commedia, una pubblicazione che arriva in un anno molto particolare, quello delle celebrazioni dantesche del 700esimo anniversario di Dante Alighieri. Perché questa pubblicazione? Allora, ti ringrazio per il tuo intervento. A dire il vero, in questi due anni di Covid ho scritto tre libri. Quindi in pratica non è che sono stato in cattività oziosa. Ho scritto a casa, ho scritto un'introduzione critica a Pirandello, un libro su Leopardi, filosofo o poeta e questo è il vero primo saggio critico che faccio su Dante. Ma è un libro diverso dai soliti libri commemorativi o celebrativi su Dante. Perché ho voluto dare un'impostazione da una parte divulgativa, cioè per rendere il libro di facile comprensione a tutti. Nello stesso tempo ho voluto evidenziare alcuni aspetti nuovi, cioè come ad esempio il pensiero di Dante, l'opera di Dante è attuale. I giovani amano ancora Dante, comprendono Dante. La cosiddetta pop-commedia di Dante è conosciuta, è amata. Poi il rapporto con il teatro, il rapporto con il cinema, fino alle opere, le ultime opere, pensiamo alle opere degli anni 2000, fino al Dante TV di Greenway che è stata un'opera rivoluzionaria nel cinema e nella televisione, tanto che vinse il Prix Italia. E' quindi tutto un insieme di sollecitazioni artistico-culturali. Nel teatro non solo parliamo delle origini del teatro, ma arriviamo anche all'esperimentazione del Living Theatre, arriviamo alle nuove performance teatrali. Poi il rapporto con la cultura di autori del Novecento, Pound, Elliot, Borges. Quindi un libro che spazia non solo sull'opera, sull'analisi dell'opera, sui personaggi danteschi, sul rapporto fra Dante e Viator e la sua terra, il Casentino, poi le varie città dantesche, Forlì, Ravenna e poi le Marche, anche Pesaro, Fano, Fano sicuramente viene visitata da Dante, ma sembra che vengano fuori anche qualche documentazione che riguarda Pesaro, fino ad arrivare a San Benedetto. Poi c'è la vita, poi c'è un aspetto bibliografico e la ciliesina sulla torta, che secondo me non doveva mancare, la lettera pastorale recentissima di Papa Francesco che esalta appunto la figura del Sommo Poeta.